3 2 1 bello a tutti ragazzi io sono il solino a santa fox e siamo di nuovo nel land però questa volta signori ho una graditissima sorpresa allora il mio piccone è veramente distrutto ridotto all'osso però va bene non c'è alcun problema ma alle mie spalle signori sono riuscito a trovarla non so guardate la che ponti allucinanti ho dovuto creare non so neanche come farò a tornare a casa sono riuscito a trovare la prima torre la prima end city signori sono sono veramente euforico allora facciamoci il giretto prima di tutto perché l'unica cosa che mi dispiace che non ho con me lo scudo non ho provveduto a portarmi uno scudo quindi mangerò carne a tutto andare però sapete che non c'è la barca qua porto caspita speravo di trovare la barchetta invece niente vabbè nulla di che speriamo che gli enderman non si incocchino adesso sono stato già aggredito un paio di volte dagli enderman però signori calmo 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 no 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 ok no mannaggia maledizione fermi tutti fermi tutti ok dovrei riuscire a scendere se ci faccio ok allora quei due signorini là sotto adesso li andiamo a prendere qua incocchiati con me ok no caspita riesco a colpirli oh uno l'ho colpito speravo ci fosse veramente un qualcosa asperate io anche saccheggio sulla spada forse mi ha droppato qualcosa no non mi ha droppato niente volevo farmi la mia prima shulker sempre che io riesca a uscirne eh qua niente sono questi grazie allora facciamo così dove è andato dove caspita sono attenzione uno e quassù no se ne è appena andato al piano di sopra sono ok eh insieme a saccheggiare questa ok oh la mia prima il mio primo pezzo di shulker due ne ho già oh già due guci di shulker buono ok mettiamocelo in sicurezza tanto la torre se riesco dovrò fermarmi con gli enderman a livellare un po' per rimettermi a posto il piccone questa torre la devo tirare vabbè ok ah li colpisco da là scusatemi da qua sembra che io li stia colpendo sapete che forse è meglio se mi metto l'arco in mano ok puoi fare anche attenzione oddio guarda che se li becco che sono chiusi guarda mi fanno un bel ritorno al mittente le frecce apriti ok preso dai che lo vediamo quello oppla no si è chiuso dai ciccio sono robin hood stacco preso vai ok vediamo se arriviamo lassù con ok ottimo ragazzi col tridente fantastico e che sono un botto questi qua e non pensavo di trovarmi la torre questa io speravo di trovarmi la torre con l'arca invece no sono rimasto fregato un altro è andato mi dovrebbero essere rimasti solo un paio ok ultimo colpo la grande vai ciccio apriti vai no si è chiuso per tempo non mi sta neanche sparando che per me è un bene tagli e apriti un attimo grande grande la nostra freccia ok spada alla mano devo imparare però che la prossima volta mi devo portare anche devo portare anche per forza lo scudo allora io inizierei a prendere tutte quante ste lucette che a me fanno impazzire aia qua ci cado sto un guaiato di brutto guarda quello aia malissimo ok via 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 no 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 spacca spacca ok sono dentro sono dentro si è spostato si è spostato ok aia quello ho mappiato ragazzi ma sono tantissimi leva sta roba leva un po' lasciami ma queste mi fanno pure danno fammi mangiare guardalo ok quello l'abbiamo preso 11 shulker e tanta roba ok stiamo qua nascosti boni 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 bella bella mi piace mi piace allora non è così difficile come credevo però mangiamo basta farlo con calma e aia facciamo dai no maledetto maledetto mi ha tirato fuori mi ha tirato fuori ok è spostato questo eh non so dove sia però aia eccolo guardalo ok andato ok dovrebbe essere qualcuno anche di qua aia che male va bene basta quanta violenza se riusciamo a salire è meglio eh ecco come non detto ok recuperiamoci le lucine a me queste mi piacciono un botto raga quanti ne abbiamo di queste 18 va bene a posto ok sapevo che qua c'era una cesta ma la sentivo dimmi che c'è roba bella allora abbiamo dell'oro vabbè noi ci avviamo del ferro va bene un elmetto con protezione e ripristino un piccone con efficienza perfetto protezione distruttibilità e ripristino va bene va bene semi di barbabietola no non ci interessano oh abbiamo un libro ornamento stile puglie vabbè oro la sella non ci serve affilatezza indistruttibilità e contraccolpo va benissimo togliamoci questi qua questi due no io li possiamo mettere qua con questo via efficienza e fortuna 3 qua cos'ho questi non li posso mettere insieme però scusatemi non so se si fa così o se dovrei farlo nella crafting no vedi me lo resetta me lo ripara ma me lo resetta ora questo mettiamolo via perché al nostro c'è sul ripristino signori è fantastico e qua dovrebbe esserci però l'arca dai perché non c'è l'arca niente ci dobbiamo spostare per forza cioè bellissima però rischiare così la vita qua neanche ormai sono arrivato fino qua che fai non te la rischi per cercare l'arca certo che te la rischi allora stavo guardando anche da qua sopra riuscivo a intravedere qualche altra noi siamo arrivati da là quindi l'ancio sta nulla l'unica zona dove potrebbe esserci qualcosa è da quell'altra parte ora guarda io quello già lo vedo qua alla distanza faccio malissimo apriti ancora apriti ciccio perfetto ultimo tocco col tridente no l'ho tirato troppo basso ok grazie è dridente mamma mia dov'è questo è incocchiato col mondo aia 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 tre colpi tre colpi oh mio dio allora vediamo qua su il ciccio è aperto sì il ciccio è aperto ciccio non ti aprire perché vengo letta e faccio male eh vabbè vado non mi ascolti però sempre quattro colpi vogliono grazie oh mi ha droppato il regalo allora una bella scappa orco no 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 santolino che cosa hai fatto corri 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 ok siamo al sicuro siamo al sicuro sì 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 ok dovrebbe essere qua fuori sì dovrebbe essere qua fuori ok porco cane ma che hanno mandato questi il mondo mi hanno lanciato oh oh rimandato al mittente ciccio eh preso andato sarei voluto riuscire a trovare anche l'arca perché siamo venuti sì solo ed esclusivamente per tutto questo ben di dio aia di materiale però effettivamente l'arca non mi sarebbe dispiaciuta eh però ben di dio di materiale ma non è tantissimo a meno che non troviamo una ne uno sotto ancora a meno che non troviamo una shulker signori andiamo a recuperare questo che ci fa i versacci oh e anche l'ultima è stata presa sentite qua scegliamoci queste ultime lucelle beh io direi che la la nostra visita nel land non è terminata qua quindi proseguirà però ne approfitto dato che sono qui per nascondermi un attimino farmi una zona di salvataggio e ripararmi il piccone facendo un po' di kill di enderman uh siamo pieni abbiamo fatto il full signori venite venite avete mai visto una volpe incocchiata quanta 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 gentaglia ma c'è che vi incazzate facilmente ah già vi dovrei anche mettere il piccone nella seconda mano grazie tanto faceva dalla farm no 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 Grazie a tutti.